E' la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo di scendere su di voi, che con voi rimanga sempre. E' bellissimo poter portare innanzitutto i nostri animali qua a persone che non vedono magari mai animali e poi è un'emozione in particolare. L'importanza è il senso di essere venuti. Il senso di essere presenti qui quest'oggi a San Pietro per la benedizione degli animali di Sant'Antonio Abate è sicuramente l'importanza di natura cristiana ma è molto importante essere a contatto con quelli che poi sono i consumatori delle nostre produzioni agricole. mi hanno detto che da allora ogni anno passa da un allevatore a un altro allevatore. Quindi pensate a quanti secoli cammina questa immagine di Sant'Antonio. un canale di Sant'Antonio è l'acqua. Grazie a tutti.